Ciao, mi chiamo Antonietta e sono italiana, dalla Sicilia. Ho scelto Almeria perché era l'unica città che aveva il mare, un buon tempo tutto l'anno e tanto calore, l'ho già certa. Di questa esperienza Erasmus l'amicizia che si è creata con tutti i ragazzi è sicuramente il calore degli spagnoli. Della ciudad, Elmar, Cabo de Cata, Mocaja, si mi ha gustato l'Alcazaba. Direi che è una città meravigliosa perché ha le giuste dimensioni, ha tutto dentro, il mare è per questo. Sì, è venuta la mia famiglia degli Stati Uniti, mia mamma e alcune zie e amiche. Sicuramente ritornerò perché è una città meravigliosa. Almeria è il paraíso di Andalusia.